eccoci qui ragazzi allora ragazzi perfetto non era mai capitato prima d'ora io in persona direttamente lo juggernaut quindi c'è da divertirci ora li ammazziamo tutti ho fatto bene a fare questo terzo video allora praticamente la squadra di ora non è pronta ma ecco qui siamo iniziati tutti pronti si parte ragazzi abbiamo ammazzato il primo ciao 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 l'abbiamo ucciso ragazzi ammazzato allora torno dietro raga ciao 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 abbiamo una squadra raga che ci sta supportando alla grazia grande non so qua non può esplodere abbiamo beccato l'altro juggernaut raga ragazzi ci hanno chiuso in mezzo ci hanno chiuso in mezzo ragazzi che perfetto che perfetto siamo quasi morti siamo morti ragazzi siamo morti ragazzi dobbiamo andare via assolutamente da qui dobbiamo andare via allora allora andiamo di qua perfetto ok allora noi ci rascondiamo altro qua dietro minchia ragazzi bastardo noi dobbiamo andare raga che stiamo perdendo quindi dobbiamo andare via se riusciamo i nostri amici ci stanno no diciamo fin di vita anche lui però e noi bastavamo un paio di coppicine siamo a terra ecco vedi ragazzi la siamo cavata non Grazie a tutti. 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 Infiliamo dentro, non facciamo lo test error di prima, ascoltate che ce n'è uno fuori, se lo vedo... Il primo l'abbiamo ucciso... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo stiamo trucidando... Ragazzi è quasi morto... È quasi morto... Eccolo lì... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi lo stiamo massacrando... Stiamo... Stiamo... Ragazzi, penso che abbiamo vinto... Ragazzi abbiamo vinto... Ragazzi abbiamo vinto... Ragazzi... 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 Ragazzi io vi saluto... Ragazzi... E ci vediamo domani... Ragazzi... 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 Grazie.